anche qui mettiamo lo stile linea quindi lo mettiamo trasparente coloriamo la riga esterna di trasparente andiamo a dare l'offset nero come prima cosa e mettiamo 60 ok seguite qua siamo già 11 minuti nero vado a mettere trasparente la riga esterna dell'offset e poi vado a fare un offset sull'offset quindi nuovo offset punto 40 però stavolta me lo vado a colorare di grigio ok coloro di grigio riga esterna trasparente e lo sposto poi tra l'altro non è manco grigio mi pare che era marrone sa che è così ok sì meglio sul marroncino questo colore qua e lo sposto un pochino sotto vedete io sto usando il tasto con la freccetta in basso della tastiera ed ho una specie di come si chiama di bordino di ombreggiatura e ho scritto buon divertimento poi mi vado a creare il l'ovale dove andrò a mettere il prezzo ovviamente non posso mettere 5-10 euro metterò io c'ho scritto un abbraccio voi vedete un bacio insomma vedete sempre voi ovale offset sull'ovale da 1 offset colorato di nero mi vado a colorare tutte e due le righe esterne di nero e dentro ci vado a scrivere che ne so un bacio ok questo sarebbe praticamente il prezzo lo mettiamo tutto in stampatello se la posso fare bacio ok un bacio perfetto coloriamo tutto di nero pure qua ok questo poi la scritta Lorena la scritta Lorena la facciamo così con l'arco clicco qui e vado dall'altra parte ok perfetto migreo la scritta il nome in questo caso ci rimetto il mio perché mi sembra pure giusto insomma vado a scegliere il font classico times new roman coloro ok sfumatura dal bianco al giallo sfumato verso l'alto quindi usiamo questo cambiamo l'angolazione della sfumatura ok clicco due volte e lo porto sopra ok ci siete tutto giù faccio più grande ok poi e poi dai sotto dei offset offset lo facciamo verde mettiamo da uno invio e coloriamo di verde ok poi facciamo un altro offset sull'offset e lo coloriamo di nero questo invece che da uno lo mettiamo da virgola 80 sarebbe 0.8 io farei pure 0.7 ok e pure questo coloriamo di nero ok poi mi vado a prendere tutte le righe interne e me ne vado tutte a colorare di trasparente perfetto come vedete ho fatto questa cosa qua ci siete poi che manca che manca che manca ah manca la coroncina oh stiamo a scordare la cosa più importante e vabbè andate su internet e andate a cercare una coroncina quindi mettete corona regina png e ve scegliete la corona che vi piace ve la tracciate e la mettete la ok questa è quella che avevo preso io ovviamente io non lo faccio perché insomma sto a perdere tempo e l'appoggi qua ci sei? vado a mettere la scritta simboli vincenti piccolino sotto simboli voli vincenti colore di nero gli faccio l'offset bianco set piccolino punto 30 vado a colorare la scritta esterna tutto quanto la metto bianca ok vabbè in questo caso da quest'altra parte avevo scelto un altro un altro font però è uguale fate voi e poi qui sotto vedete qui scrivo i due simboli i tuoi simboli adesso lo faccio un pochino più piccolo perché comunque deve andare a finire proprio qua in mezzo nero riga nera offset bianco prima l'avevamo fatto da 0,50 mi pare rifacciamo 0,50 offset colorato di bianco e riga offset bianca questo oddio aspetta che non lo so ok facciamo un pochetto più piccolo e ci andiamo a posizionare qui in mezzo ok vediamo se ok perfetto che manca che manca i vari simboli ragazzi andate a cercare i simboli su internet la bocca come vi dicevo prima varie cose e ve le andate a mettere qui ovviamente ricordatevi che per farli vincere dovete mettere un simbolo dei simboli vincenti all'interno della casella dei tuoi simboli ok perché se no è un cavoletto tu insomma non vincono niente altrimenti un'altra cosa che ho messo è questa fascia qui vedete mi sono andata a prendere praticamente un effetto di luce sempre su internet mi pare con scritto effetto luce bianca png vedete ho scelto questo qui c'è scritto casa bianca non so perché cliccato salvato e messo qui dietro in secondo piano qua in modo da dare ho spostato lo sfondo in secondo piano in modo che la luce bianca potesse risaltare e niente ragazzi è finito voi ve lo stampate potete anche non fare il print and cut perché fate prima piuttosto che andare a fare il print and cut ve lo tagliate con la taglierina che fate prima insomma e niente poi qui sopra vi andate a ritagliare come vedete qui nella foto eccola e il materiale per i grattevinci che sarebbe questo ok allora gratta e vinci e io scrivo silhouette eccolo qua ovviamente ci sono vari negozi che lo vendono vedete voi dove vi conviene di più e niente è questo qua ovviamente potete utilizzare anche il grattevinci dorato eccolo eccolo oppure c'era il grattevinci se non sbaglio eccolo qui il grattevinci stampabile quindi ha una base bianca e sopra ci si stampa in modo che potete fare proprio l'effetto come il grattevinci reale quindi ci potete stampare magari sopra dei simbolini insomma vedete voi spero di esservi stata utile fatemi vedere che cosa creerete con questo video ovviamente questo qui è per andare a ricreare un grattevinci più simile possibile a grattevinci normale però lo potete fare anche personalizzato basta cambiare solamente lo sfondo ok vi mando un abbraccio ciao 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 Grazie a tutti